Sabato sera, benvenuti da Giulia De Maio e Pina Giordano, siamo di nuovo qui insieme per parlare come sempre di Galateo a buone maniere e anche tanto tanto altro, vero Pina? Una puntata questa dedicata alla Royal Family, da dove partiamo Giulia? Intanto facciamo un omaggio, un vero e proprio omaggio a Kate, Kate che è un'icona di stile a tutti gli effetti, dopo commenteremo anche i suoi look, ma è immancabile il nostro appuntamento anche con Thomas Luigi Mastroianni, esperto di Galateo e case reali per approfondire meglio, perché avevamo accennato qualche puntata fa, l'autobiografia del principe Harry, Spare, adesso finalmente approfondiremo questo libro e poi scopriremo cosa ne pensa il pubblico. Sì, allora io direi di iniziare ovviamente con la tanto amata davvero da tutti appunto Kate Middleton, perché è diventato un personaggio anche per quanto riguarda il mondo della moda, è diventata una vera e propria icona. Ma a questo punto direi di dare subito il benvenuto alla nostra ospite, Giulia Ferrara, consulente di armocromia ma anche consulente di immagine. Eccoci qua! Ciao Giulia, buonasera! Ciao Giulia! Buonasera! Eccoci allora, Kate Middleton, tanto amata, tutto ciò che indossa alla fine va sold out, fa tendenza, quindi non potevamo ovviamente non parlare di lei. Che cosa ci puoi dire della sua figura appunto per quello che è il mondo della moda? Allora, è una figura estremamente importante che come giustamente dicevate voi influenza ed è veramente un'icona di stile in un certo modo alla portata di tutti, quindi pur essendo lei estremamente ovviamente accerchiata da lusso, utilizza anche alcuni capi che possono essere tranquillamente rivisitate in chiave più alla portata di tutti per tutti noi. Infatti molto spesso notate in giro per strada, ma anche ovviamente sui social, delle ragazze o comunque delle donne che cercano di riprodurre i suoi look. E allora noi ripercorriamo insieme la biografia di Kate Middleton con questo servizio. E allora noi ripercorriamo insieme la biografia di Kate Middleton con questo servizio. e allora noi ripercorriamo insieme la biografia di Kate Middleton con questo servizio. Kate Middleton, duchessa e ad oggi principessa del Galles, ormai abbiamo detto proprio un'icona di stile e spesso viene tra l'altro anche associata come immagine appunto a Lady Diana proprio perché anche Lady Diana era molto vicina al popolo come lo è appunto anche Kate soprattutto Lady Diana amava molto, la moda amava cambiarsi con dei look molto seguiti e soprattutto riutilizzava spesso i look, cosa che fa anche Kate, giusto Giulia? Sì assolutamente, iconico è un suo vestito bianco che è stato riutilizzato 5 volte ma lo fa spesso e secondo me è una bellissima abitudine proprio per dare anche un messaggio di sostenibilità alla moda ovviamente se il prodotto è buono, è di valore, può essere riutilizzato in maniera continuativa per diversi volte ovviamente per diverse occasioni possiamo ovviamente abbinarli in maniera diversa in base alle esigenze che abbiamo Ecco Giulia ma secondo te qual è il punto forte di Kate Middleton per quanto riguarda la sua fisicità? Ecco allora lei ha un fisico estremamente femminile rispetto a quanto si pensa è una forma a pera quindi mantiene un baricentro più basso quindi la gamba rimane più corta in realtà del busto ma lei ovviamente grazie ai suoi stilisti e consulenti d'immagine riesce estremamente bene a camuffare questa caratteristica che potrebbe ovviamente rimpicciolire la figura e renderla un pochettino più Anche perché Giulia come ben sai Giulia quale? Giulia De Maio le due Giulia ogni suo outfit è accuratamente studiato Esatto tra l'altro quello che io mi sono sempre chiesta andiamo a vedere la prima immagine i suoi cappottini comunque sono davvero famosi sono anche super immediati i cappottini e i tailleur in particolare io mi sono sempre chiesta sotto a questi cappottini così stretti aderenti no? che poi alla fine lei non slaccia mai li porta sempre completamente abbottonati che cosa porterà sotto mi chiedo? quando anche magari è tanto freddo no? a volte sembrano talmente aderenti che non ci sia neanche la possibilità di indossare un maione no infatti tra i trucchi vabbè diciamolo indossa il body Giulia è anche un body termico immagino no? no Giulia? sì sicuramente un body o magari un maglioncino estremamente sottile i body termici tra l'altro vengono utilizzati tantissimo proprio perché non fanno spessore a volte sono anche un po' modellanti però tengono caldo quindi fanno il loro lavoro ecco allora partiamo dalla prima immagine stavamo vedendo già la coppia esatto William e Kate in blu che cosa ci dici Giulia di questo look? ecco molto bello il colore perché è un blu molto elegante rispetto magari al classico blu da uomo se notate è leggermente diverso un po' meno saturo bellissimo il modello per lei di giacca perché essendo diciamo tagliata sopra il fianco evita di cadere in questa parte che per lei ovviamente non si vede ma risulta un po' più voluminosa e la gonna esattamente al ginocchio permette appunto di slanciare la gamba bellissimo completo molto elegante ma allo stesso tempo portabile quindi niente di così sfarcioso ecco però una gonna sopra al ginocchio è permesso? è concesso? come si è evoluta la royal feminine in questo senso? ecco diciamo che siamo sempre lì al ginocchio un goccino sopra un goccino sotto va bene ovviamente ancora più sopra è diciamo di cattivo gusto anche perché alcuni sui look sono stati criticati in merito proprio a queste gonnelline a questo vedo non vedo esatto sì sarebbe sempre meglio rimanere nell'area del ginocchio ecco ovviamente secondo me la lunghezza a metà polpaccio è qualcosa di sconsigliato quindi probabilmente cercano comunque di rimanere nell'area del ginocchio perché la renderebbero troppo ingoffata diciamo come figura quindi meglio slanciare un pochino Giulia invece a livello di armocromia quindi questo tipo di blu a chi sta meglio? e soprattutto la nostra Kate secondo te di che stagione potrebbe essere? ecco allora Giulia ormai tu sei appassionata proprio allora se parliamo di analisi del colore quindi per capire quali colori la valorizzano di più abbiamo abbastanza una dietriva su Kate perché molti credono che lei appunto sia primavera quindi una stagione abbastanza calda ma soprattutto luminosa quindi che preferisce colori saturi anche quasi tendenti al fluo oppure c'è un'altra scuola di pensiero che la vede più come un'estate fredda quindi sempre abbastanza di media intensità ma con colori decisamente più freddi quindi la verità non la sapremo mai finché lei non si sottoporrà a una consulenza ma io sono un po' più della scuola luminosa quindi penso che le stiano bene questi colori molto brillanti la vediamo spesso utilizzare tantissimi colori e li porta veramente in maniera naturale anche perché Kate la nostra Kate a noi piace chiamarla così è stata etichettata come la principessa del riciclo pensate che è capitato che ha anche preso degli abiti a noleggio sì, vero Giulia? questo è proprio quello che ci dicevi anche prima proprio per dare anche questo buon esempio assolutamente sia abiti a noleggio che abiti magari proprio suoi ma riutilizzati in diverse occasioni e poi giustamente come citavate voi prima ha utilizzato anche sia gioielli che capi di Lady Diana ridandogli ovviamente nuova vita sono tutti abiti estremamente di valore fabbricati molto bene quindi questo li fa durare proprio nel tempo per sempre praticamente quindi secondo me è un bellissimo modo è un bellissimo messaggio anche da dare soprattutto alle giovani che cadono più in tentazione di cambiare spesso vedere una persona che ha un esempio così iconico nel mondo della moda che riutilizza e dà nuova vita è bellissimo bene, allora andiamo con il prossimo look di Kate andiamo ancora a curiosare vediamo cosa abbiamo qui la vediamo proprio con la moda sportiva all'opposto di quello che era prima no Giulia? sì esatto qua ha proprio un abito più sportivo bellissimo tra l'altro questo contrasto bianco, rosso e blu che rende sempre un po' omaggio ai colori e ovviamente le sta estremamente bene come modo appunto di portare la manica così più scura e l'interno più chiaro a livello ottico funziona molto bene sta benissimo ovviamente anche così sportiva anche se secondo me non è esattamente il suo stile quindi ovviamente in base all'esigenza dovrà anche lei utilizzarlo però la vedo molto di più nella sua versione diciamo classica oppure devo dire sta molto bene anche quando è vestita un pochino più country chic quindi quando la vediamo con un cappottino uno stivale un po' stile tipo da caccia no? anche in quel caso devo dire che sta molto bene effettivamente sportiva al suo perché al suo perché però sì magari il suo stile effettivamente è un altro anche perché siamo abituate anche a vederla in quel modo lì sempre elegante sempre impeccabile andiamo avanti con le immagini vediamo un po' ecco che ci dici Giulia? vestitino semplice sobrio esatto questo è estremamente semplice come vestito ha un bel stacco sotto sì impreziosito sul collo e poi c'è una continuità cromatica come vedete è tutto nero quindi abbiamo proprio questo effetto allungamento snellimento della figura al massimo bellissimo anche il gioco calza e scarpa nera molto elegante esatto elimina lo stacco e lei tra l'altro utilizza molto spesso questo trucchetto quindi scarpa e calza dello stesso colore oppure in estate o quando ha possibilità di usare la gamba nuda o magari con la calza color carne carpa nude e continuità cromatica con la gamba che appunto le allunga anche perché l'etichetta reale non prevede la gamba nuda esatto prevede sempre la calza sì quindi la calza c'è ma non si vede però c'è questa è una delle regole effettivamente quindi calza scura in questo caso anche se io mi ricordavo per esempio che la calza scura non fosse ammessa però evidentemente in questo forse siamo andati avanti insomma hanno aggiustato un po' qualche regola magari non possono metterla velata non so andrebbe un po' rivista la situazione sicuramente cambiano anche no andando avanti diciamo il protocollo si aggiorna esatto c'è un po' di si va verso un po' di modernità dai allora prossimo look andiamo un po' a curiosare oh qui è un po' come ci immaginiamo anche noi Kate no qui è un po' scolaretta un po' scolaretta royal si è vero bellissima la camicetta la sua classica acconciatura insomma questa è Kate si esatto proprio classica tra l'altro molto bella questa camicetta bianca con queste diciamo gioco di righe che appunto sempre verticalizza è lunga la figura mi piace molto anche la vicinanza diciamo del grigio che poi diventa nero sulla calza sta molto bene e mi piace molto uno stile abbastanza semplice che sicuramente non rimane d'impatto ma la rende ovviamente molto elegante e composta che secondo me composta è proprio il suo aggettivo perfetto nonostante poi la posa perché non sia una posa di quelle super tirate non è una foto patinata no? quindi è molto semplice naturale brilla proprio di luce propria devo dire bel sorriso ci piace allora andiamo alla prossima immagine Giulia che ci dice? è proprio casual questo abitino sì questo secondo me è proprio il suo stile cioè è lo stile che lei vorrebbe perché ogni tanto utilizza questi tipi di abiti di vestiti e funzionano molto bene secondo me come colori questo è estremamente luminoso naturale sulla sua pelle e la lunghezza a me non fa impazzire perché se notate l'immagine della figura sembra più rimpicciolita si accorcia un goccino da quello che si dicevi prima sì esatto però comunque non è male magari potevano tenerlo un pochettino più lungo la scarpa se notate è appunto una zeppa che tra l'altro ho notato che non sarebbe così approvata dall'etichetta però magari in una determinata occasione è stata utilizzata magari da lei per suo piacere magari dopo è stata bacchettata chi può dire non lo sapremo mai quindi questo è un po' un look da vacanza sì una Kate differente un pochino più sbarazzina un po' meno attenta anche alle regole come dicevamo però comunque ci piace questi sono colori che apparentemente le stanno bene Giulia o no? come colori ci siamo lei indossa praticamente quasi sempre colori appunto giusti per lei secondo me ci sono ovviamente delle occasioni dove utilizza dei colori troppo spenti se voi notate la vedete magari col grigio con un blu proprio spento spento noterete che il viso è un po' incupito ma nella maggior parte delle occasioni soprattutto quelle importanti lei utilizza sempre colori un po' come la regina Elisabetta diciamo ecco a proposito dei colori ma esiste proprio una palette cioè nel senso il protocollo prevede alcuni colori piuttosto che altri a seconda delle cerimonie a seconda delle circostanze lo sappiamo per la regina Elisabetta c'era un protocollo a parte proprio perché era una questione di riconoscimento in mezzo alla folla quindi lei veniva appunto vestita di questi colori molto eccentrici di modo che era sempre facilmente riconoscibile dalle guardie per motivi di sicurezza per gli altri Giulia non so ci sai dire tu qualcosa? allora non so se ci sono delle regole rigide in questo senso so però che loro appunto effettuano delle prove del colore anche loro proprio per avere uno stilista un consigliante di immagine che li segua secondo me loro comunque tendono ad utilizzare colori anche per una questione proprio di di eleganza di portabilità no del vestito esatto sicuramente certo non so però se c'è un obbligo in questo senso bene andiamo avanti andiamo ancora a curiosare eccola in verde qui siamo in due commentiamo entrambe entrambe le cognate qui abbiamo le due amiche nemiche ecco quest'abito devo essere sincera allora il colore mi piace molto la forma secondo me non è così valorizzante per lei trovo questo tipo di forma dove sembra effettivamente molto esile sembra proprio anche estremamente stretta nel punto vita sì quello sì no sicuramente è un punto vita molto stretto non amo ecco questo effetto manica tagliata su all'altezza del seno che sicuramente aggiunge volume otticamente no al seno però avrei preferito magari appunto una manica un goccino più lunga come appunto magari a tre quarti Giulia ma c'è una preferenza tra le due? eh allora no Kate o Megan? in questioni di look dai a livello di preferisco sicuramente Kate ma proprio per una questione di stile mi piace di più anche anche se in questa foto sono onesta io sono team Kate però devo dire in questa foto Megan a me piace questo look sì anche a me infatti mi piace molto molto raffinata al contrario appunto come dicevamo prima lei ha la manica più lunga lo trovo un abbinamento molto di classe questo sì quindi in questo caso a mal in cuore posso dire ripeto sono team Kate a mal in cuore insomma posso dire che invece mi piace il look di Megan quindi diamo un punto a Megan sì sono d'accordo anch'io in questo caso bene allora andiamo alla prossima immagine wow qui ecco qui è sempre la nostra Kate come la riconosciamo e come siamo soliti ormai riconoscerla effettivamente vogliamo parlare del cappello ecco meraviglioso il cappello stupendo tra l'altro proprio una loro usanza della famiglia reale utilizzare sempre copricapo in occasioni importanti tra l'altro bellissimo anche il richiamo sul vestitino della bimba con il fiocco dello stesso colore del vestito appunto di Kate bellissimo il colore su di lei se notate è un cipria un avorio che colore è? è un cipria tendente un po' più al caldo quindi abbiamo anche qualcosa di arancia che le sta veramente bene quindi questo è veramente un look perfetto secondo me anche lo scollo a V le sta molto bene questo è il look proprio della principessa che ci piace esatto il look della principessa che tutti vorremmo quindi prossimo abito ce l'andiamo a comprare tutte e tre l'abito cipria di Kate questa potrebbe essere anche per esempio piano piano ci avviciniamo alla stagione delle cerimonie potrebbe essere un look da copiare anche per una cerimonia no Giulia? sì assolutamente non sta bene a tutti a questo colore è abbastanza complesso da portare in maniera così naturale ma magari possiamo scegliere una tonalità o più fredda o un po' più marcata quindi un po' meno cipriato per le persone magari che hanno una pelle tendente ad abbronzarsi molto o con un capello molto scuro però è molto bello come colore rimane qualche altra foto da commentare? sì andiamo a vedere la prossima oh eccola qui famosi cappottini esatto sì questi anche come dicevamo prima sono molto emblematici del suo look stupenda la cinturina che stringe la vita secondo me anche a contrasto risulta veramente in realtà è una controtendenza effettivamente perché lei comunque è una donna alla moda ma segue comunque il proprio stile perché effettivamente la moda in realtà attualmente propone canoni completamente differenti i cappotti oggi vanno di moda over no Giulia assolutamente sì di solito negli ultimi anni abbiamo visto proprio questi cappotti o molto lunghi o comunque come abbiamo visto diverse volte over senza una forma così definita mentre lei preferisce sempre stringere la vita o comunque accompagnare la silhouette e secondo me è una bellissima scelta perché avendo questo tipo di fisico le rende assolutamente giustizia anche poi per la sua figura esatto però io attendo con ansia una foto vediamo se arriva andiamo avanti vediamo la prossima immagine perché questa me la dovete spiegare allora non è questa la foto però piano piano ci arriviamo andiamo avanti questa no neanche questa mi sa che è l'ultima perché mi ha proprio incuriosito un oggetto tra i capelli ecco è proprio questa allora di cosa si tratta perché non è un cappello è un fermaglio cos'è sì sono diciamo che sono questi cappellini che usano esatto li categorizzano comunque come cappellini però non sono dei veri e proprio cappelli che incastri appunto all'interno del tipo quello di prima che abbiamo visto in rosa dell'abito che ci piaceva esatto quando si può indossare Giulia sicuramente ha una cerimonia o comunque un incontro estremamente formale quindi vengono usati proprio quando c'è necessità di essere estremamente eleganti formali non approvo tantissimo lo stile di questo cappellino perché personalmente non lo amo però capisco che sono assolutamente scelte dettate anche dall'esigenza appunto dello stile magari della cerimonia del vestito quindi lei li usa molto spesso e appunto hanno questo impatto di famiglia reale proprio ci ricordano la famiglia reale inglese è vero Giulia allora grazie mille Giulia Ferrara per essere stata qui con noi a Bontontop come abbiamo detto sei una consulente d'immagine ma anche un armocromista noi ti ringraziamo e ci vediamo prestissimo grazie Giulia grazie a voi grazie a voi buona serata grazie Giulia buona serata rimanete qui con noi perché torneremo a parlare di Royal Family tra poco ed eccoci tornate ben ritrovati Giulia il tempo di un caffè e ci siamo noi intanto abbiamo voluto realizzare questa puntata parlando facendo un omaggio alla Royal Family è come di consueto anche perché era rimasto un discorso un po' in sospeso quello con Thomas Luigi Mastroiani esperto di Galateo e Case Reali andiamo a dare il benvenuto Thomas buonasera benvenuto buonasera gentilissime gentildonne non si può parlare di Royal Family se non invitiamo Thomas Luigi Mastroiani intanto complimenti per questi angoli deliziosi della tua dimora io vi ringrazio e del resto la mia passione per la storia il passato mi sento sempre cuccolato anche perché come si suol dire il reliquiaro laico della famiglia alcuni le chiamerebbero cose vecchie ma in realtà hanno i sapori di quello che è la tradizione ma soprattutto di quello che ci hanno lasciato i nostri cari e tutti gli oggetti che sono in casa mia appartengono a qualcuno della famiglia quindi viene chiamato reliquiaro laico ecco allora Thomas complimenti anche per l'eleganza perché ogni volta un abito meraviglioso ma a questo punto io direi di parlare appunto di comunicazione in generale e a tal proposito noi di Bon Ton Top abbiamo preparato un servizio che andiamo a guardare insieme il galateo non è solo buona educazione ma molto di più il galateo disciplina i rapporti tra persone attraverso una serie di regole da imparare il bon ton non coinvolge solamente il modo di vestirsi o come apparecchiare la tavola ma anche quello della comunicazione ecco 5 regole di bon ton comunicativo che dovremmo seguire quotidianamente l'educazione parte dalla famiglia e un'impostazione rigida in grado di trasmettere le buone maniere può fare la differenza nel mondo degli adulti il modo in cui comunichiamo e ci approcciamo agli altri e il nostro biglietto da visita ed è indispensabile cercare di attenersi il più possibile alle regole di bon ton il galateo è fondamentale per stare in società le regole non eccessivamente restrittive e piuttosto chiare servono per mettere tutti alla pari richiamando in modo particolare il tema del rispetto all'interno del vocabolario del galateo ci sono alcune parole che dovremmo utilizzare quotidianamente e con più frequenza per favore grazie prego e scusa queste formule simbolo di rispetto e gentilezza possono salvare da situazioni imbarazzanti ma possono anche aiutare a superare alcune porte secondo il galateo le parole per favore grazie prego e scusa non hanno sesso né età questo significa che educazione gentilezza e rispetto devono venire prima di tutto indipendentemente da fattori anagrafici il galateo rafforza l'esigenza di chiedere e ringraziare con garbo questo perché oggi sembra sempre di più che la non curanza e la poca pazienza vincano sulla gentilezza ci pensa quindi il bon ton a rimettere a posto le cose ricordando una serie di regole da seguire per vivere in un ambiente sociale piacevole e conviviale il galateo non impone solo alcune parole da utilizzare in modo adeguato e frequente ma ne bandisce l'uso di altre talvolta seppur inconsapevolmente con il tentativo di fare una carineria si pronunciano frasi considerate non adatte dal galateo assolutamente sconsigliato è l'utilizzo della parola piacere quando si stringe la mano di qualcuno appena conosciuto secondo il bon ton si dovrebbe preferire la presentazione con il proprio nome e cognome seconda espressione bandita è buon appetito pronunciata prima dell'inizio di un pasto meglio attenersi a frasi come buona cena per esempio nel linguaggio comune viene identificata con colazione il primo pasto della giornata che solitamente facciamo al bar con cappuccino e cornetto ma in realtà un invito formale a colazione indica il transo altrettanto rilevante è la forma quando si desidera offrire qualcosa passando una pietanza meglio evitare il termine colloquiale vuoi? prediligendo invece un gradisci in risposta qualora avessimo mangiato abbastanza evitiamo di usare il gergo sono pieno preferendo invece l'espressione sono sazio il bon ton si esprime in modo chiaro anche sull'utilizzo delle parole straniere attenzione a non utilizzarle mai al plurale oltre ad essere sbagliato dal punto di vista grammaticale è anche sinonimo di cafoneria per il galateo sconsigliati poi i termini caro o dottore rivolti con leggerezza a chiunque sono ritenuti volgari e inappropriati altrettanto fuori luogo è l'espressione a buon rendere dopo aver ricevuto un regalo che non è in nessun modo da considerare uno scambio secondo il galateo a tavola infine sono considerate poco eleganti le formule che accompagnano il brindisi il brindisi secondo il galateo vuole un semplice gesto con il calice evitando quindi frasi quali cin cin salute e prosit non bastano le parole è importante anche il modo in cui vengono pronunciate il tono di voce secondo le regole del bon ton deve essere equilibrato evitando quindi di gridare ma anche di sussurrare secondo il galateo un tono di voce elevato trasmette aggressività mentre un tono di voce troppo basso potrebbe escludere dalla conversazione chi è più lontano oltre al tono secondo il galateo è importante anche il ritmo attenzione alle pause troppo lunghe che costringono l'interlocutore ad attese sgradevoli ma è importante anche evitare una parlata troppo veloce che potrebbe causare problemi di incomprensione o peggio sputi involontari dare attenzione agli altri ascoltando attentamente è una delle regole più importanti del galateo alternandosi nei turni di conversazione si possono prendere spunti dalle affermazioni degli altri che si sentiranno gratificati e apprezzati molti considerano complicato conversare ma in realtà è ascoltare ad essere davvero difficile secondo le statistiche tutti amano parlare di sé o di tematiche a loro care ma è bene lasciare spazio anche agli altri interlocutori assolutamente attenzione ai gesti noi italiani tendiamo a gesticolare molto ma secondo le regole del bon ton è importante che i movimenti siano armoniosi eleganti e composti evitate di picchettare nervosamente piedi dita oggetti ma anche di sistemarvi continuamente i capelli tra le cose più fastidiose secondo il galateo c'è poi il toccare l'interlocutore durante la conversazione evitate assolutamente di ricercare l'attenzione di qualcuno toccandolo abbiamo fatto un ripasso veloce di quelle che sono le regole di comunicazione ma Giulia un ottimo lavoro di comunicazione chi lo ha fatto lo ha fatto il principe Harry perché lo ricordiamo il 10 gennaio è uscita la sua autobiografia Sper tra l'altro è il libro di saggistica più venduto di tutti i tempi Sì è vero tra l'altro ha anche un prezzo che non ci aspettavamo perché insomma non è quel libro da 10 euro insomma dovrebbe stare addirittura intorno ai 29 se non sbaglio giusto Thomas? Sì 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 è una quotazione di questo tipo assolutamente dunque cosa dire su questa vicenda credo che in qualche misura se guardiamo la vendita rispetto alla sua popolarità diciamo che possiamo avere due indici perfettamente in contrasto cosa ne pensate? In quel senso appunto le statistiche in questo momento danno come il membro Henry che era membro della famiglia reale il secondo poi la regina Elisabetta è andato impicchiata sostanzialmente veramente tra gli ultimi degli ultimi quindi ha un consenso molto molto basso che è in costante ahimè discesa questo probabilmente il libro proprio viene letto anche per per comprendere io stesso che vi non vi nascondo ovviamente ho in buona parte iniziato a leggere proprio perché è giusto poi non avere pregiudizi ma avere sempre un atteggiamento di conoscenza prima delle cose al corché poi dopo giustamente pronunciarsi se volete poi alcune cose ve le potrò dire prego prego cosa ne pensi leggendo anche così immagino il primo capitolo o lo hai già come si suol dire in gergo divorato Thomas questo libro diciamo di mio non essendo un giornalista di professione cerco sempre come faccio con i libri di proprio fare una specie di metodo Stanislavski cioè fare un viaggio che proprio per guardare i dettagli a me piace leggere in maniera suave diciamo non sono il lettore come diceva come appunto dicevate voi sfrenato che divora quindi lo sto centellinando come si dovrebbe fare con i buoni vini in questo caso quello che vi posso personalmente posso esprimere diciamo che in qualche misura alle mie spalle potete vedere che c'è la regina Elisabetta e l'attuale Re Carlo non so se avete visto i ritratti alle mie spalle diciamo che già in questo credo che sia abbastanza eloquente ma io allora ritengo che sia un libro per quello che ho potuto vedere sicuramente ben scritto non a caso il premio Pulitzer quindi insomma stiamo parlando uno dei più importanti scrittori che c'è al mondo quindi c'è una grande operazione in tal senso fatta bene l'impressione che ho avuto io che continua a essere sostenuta è quello che avevamo accennato anche la volta precedente sicuramente il primo è da uno spaccato con quello che erano gli occhi all'ora del giovinetto e poi man mano che cresce tutto quello che è il racconto un po' dei suoi cari assume via via vesti diverse in base anche al momento impattante si porterà dietro da quello che leggo sempre questo grandissimo ferita mai rimarginata ammesso che si possa rimarginare la ferita di un figlio che perde un genitore quindi questo aspetto sicuramente evince nella sua esperienza anche quando lui comincia a entrare nei vari ruoli che la vita poi al di là che sia una persona ovviamente non è un robot è una persona non dimentichiamoci ma dall'altra parte non dimentichiamoci anche che ci sono dei ruoli lui stesso comincia fin da piccolo a notare che ci sono delle differenze tra virgolette che sono normali e tipiche in tutte le famiglie reali probabilmente gli occhi di un bambino l'hanno vista in un modo poi man mano che crescendo queste cose via via assumono ruoli diversi quindi questa è la prima parte che vi posso dire sul principe Henry dispiace secondo me questo trovi giusto mettere così in pubblica piazza comunque degli affari di famiglia soprattutto di una famiglia così importante e se l'affare fosse il libro stesso invece allora io penso che ci può ognuno di noi giustamente ha diritto di dare un'interpretazione in base anche al proprio al proprio feedback culturale alla propria background eccetera sicuramente credo questo valga per tutti noi allora passiamo da una vita in cui la vita privata come voi sapete se guardiamo anche un attimino la storia proprio anche nostra no penso che anche voi lo sapete quant'erano sicuramente i nonni più riservati di noi i bisnonni ancora di più quindi la vita privata era come dice la parola privata addirittura intima in questo libro siccome lui per esempio accenna per esempio alcuni anche aneddoti su degli avi addirittura no su dei di quello che possono essere stati prima olivizio virtù che ogni essere umano ha il fatto che vengano come dire spiattellate passatemi il termine quindi messi veramente come le lenzuola fuori dal balcone sicuramente questa cosa non è molto etichetta reale ma penso che non è neanche familiare immaginiamoci noi noi tre ognuno di noi sicuramente siamo esseri umani ci sono ombre e luci il fatto di poterle raccontare in un libro mi viene in mente scusate se faccio l'aneddoto tanto mi avreste portato di voi avrete notato la canzone di un personaggio chiaramente noi stiamo tenuti a guardare non solo i reali ma a volte anche le persone note come è stata Shakira la cantante di una vicenda non so voi come la pensate in generale che i panni sporchi si lavano in casa ora che poi dopo ci sia dietro come dicevamo anche con Pina magari qualcosa a livello di marketing comunque dietro magari ci può essere anche un gran business eccetera eccetera questa è un'altra cosa però in generale insomma che tutto il mondo almeno per il mio parere no possa parlare comunque dei fatti miei o comunque dei fatti miei che ha messo in pubblica piazza qualcun altro devo dire mi darebbe comunque un stilio ecco vi faccio vi voglio fare un esempio di una cosa che mi ha particolarmente colpito in questa prima parte della lettura in cui si parla del loro papà del principe Carlo per un aneddoto che magari non tutti conoscevano pochissime persone sembrerebbe che il principe abbia per ragioni sapete tutti che il principe è stato anche Carlo è stato allora il principe Carlo attualmente è stato anche un grande sportivo nel polo e sembrerebbe che il principe allora principe abbia fatto alcune cadute questo ha comportato come succede per tutti gli sportivi che vivono un incidente che quella zona in particolare il collo e la schiena soffrissero di dolenze saltuali che comunque davano fastidio ecco lui parla già di questa cosa che secondo me è molto privato è vero un dolore del collo per carità ma parla anche di quali fossero le modalità con cui il principe faceva degli esercizi al mattino proprio per fare un lavoro preventivo su quelle che potevano essere poi delle dolenze siccome questo esercizio va un po' veramente nella fase più privata quando uno si alza al mattino e addirittura parlando anche di che cosa indossasse o cosa non indossasse per effettuare questi esercizi mi sembra davvero che si vada oltre quello che è l'accettabile di una questione di privacy per come la intendo io sia ben inteso però vedete qui ci sono due mondi che si scontrano sembrerebbe che il principe Henry abbia preceduto o abbia addirittura sdoganato la shakira della situazione oramai sembrerebbe che più si racconta della vita privata e sembrerebbe che più sia successo a discapito però secondo me degli stessi rapporti interpersonali soprattutto familiari e non lo so poi alla fine dove si vada a parare perché oggettivamente cosa ci insegna il Galateo al riguardo? allora per tornare a poco fa che qualcuno giustamente voi avete detto parlando di panni sporchi allora questo non è solo una questione di panni sporchi ovviamente il vecchio adagio si riferisce al fatto perché se no sembrerebbe quasi che queste famiglie abbiano solo degli scheletri terribili negli armadi ma possono essere anche cose semplicemente intime pensiamo solamente a volte a quelle manifestazioni troppo pubbliche di due innamorati che sfociano in qualcosa che si dovrebbe fare in casa propria si va veramente oltre il consentito io trovo che la bellezza anche dei rapporti familiari sta nel fatto che è un qualcosa che è conosciuto a pochi elementi della famiglia e parlo di cose belle ovviamente o comunque parlo anche di cose magari leggermente spiacevoli ovviamente questo da non sottointendere quando si parla di questioni legate a cose terribili che a volte purtroppo cadono e sentiamo oggigiorno un argomento che riguarda anche molto i social perché spesso secondo me si mostra anche più di quello che si dovrebbe soprattutto per quanto riguarda magari persone che non lavorano neanche con i social quindi vedo effettivamente la vita quotidiana di persone che non hanno a che fare appunto con il mondo della comunicazione spiattellare qua e là agli affari propri di famiglia di casa eccetera eccetera io personalmente questo lo trovo un po' eccessivo questo credo sia anche una fase che stiamo vivendo no Pina? anche perché poi tornare indietro è difficile cioè non si può cancellare così con facilità quello che si condivide pubblicamente vero Thomas? assolutamente guardate avete centrato in pieno noi tre siamo perfettamente in sintonia sì e come se facessimo non so una cena penso che tremerebbe il mondo paradossalmente che chi è dalla parte diciamo di una sequenza di una vita che è cadenzata da regole ma attenzione che non si deve poi passare fraintendere che molto spesso anche la gente ha un'idea anche di come vivo io di come immagino vivete voi come se fossero quasi delle statue ingessate non c'è invece quello che voglio far comprendere molto spesso cerco di far comprendere che l'etichetta aiuta tantissimo a salvaguardare tutti quegli aspetti che invece come diceva giustamente anche Giuseppino cioè quello di andare entrare poi in un veicolo che non è neanche cieco è una strada senza ritorno quindi veramente si rischia di mettere alla berlina se stessi e anche i propri cari che non è detto che condividano questa linea anzi molto spesso anche questo costantemente mettersi all'interno di un acquario come essere una vita veramente come da un manichino in vetrina ogni giorno con un cambio d'abito con una situazione a questo punto voglio dire veramente non c'è più spazio per la privacy non c'è spazio anche per quella sacralità e quella bellezza che non perché vengono sporcate purtroppo nella gente come dicevate poco fa anche sui social qualche giorno fa a me è capitato su sky lo posso dire serenamente di fare un commento sky è stata molto carina mi ha subito risposto perché io avevo presentato loro la denuncia di fatto che c'erano due o tre persone che mi hanno immediatamente attaccato solo perché avevo espresso un'opinione su questo libro inteso che trovavo in maniera molto semplice e sintetica che fosse inadeguato rispetto al contesto in generale e che si poteva benissimo vivere questa esperienza di riconciliare semmai perché io penso che da questo libro non sia un ponte io se la parlo per me se avessi un dissidio con un familiare cercherei di incontrarlo a quattro occhi in maniera soave serena pur trovando un compromesso ma cercando di riconciliare perché le cose che lui racconta nel libro davvero se sono così e sicuramente potranno essere così secondo me potevano benissimo risolversi parlandone dimostrando di quanto si era sofferto io non credo che Re Carlo III o il fratello William si sarebbero opposti certo presentati nella maniera più adeguata certo poi a questo punto direi che alla fine non sappiamo poi l'altra parte no come sono andate effettivamente le cose a questo punto noi conosciamo una sola campana quindi anche qui no non sarebbe neanche proprio giusto però Giulia sono curiosa non ti lo voglio giudicare però sono curiosa di capire anche come è affrontato nel libro il tema della famiglia allargata ma allora la questione è proprio questa la famiglia allargata io penso che qui si siano giustamente da ragazzi proviamo a immaginare dei ragazzi che provengono da una famiglia di papà e una mamma che a un certo punto hanno deciso di dividere le loro vite proseguendo un camino inevitabilmente sulla scena si affaceranno e non è sempre così ovviamente dei partner i ragazzi che allora erano giovanissimi comprendiamo anche il trauma di una madre che lui definisce come una luce praticamente quasi la luce di una stella che vedono parla parla appunto di questi scienziati che vedono la luce di una stella che di fatto non c'è più perché noi arriva milioni milioni di anni dopo quindi lui continua a parlare di queste immagini che trovo molto romantica molto bella paragonando la madre a una stella quindi immaginiamoci da cui si viene la situazione veramente di disagio di profondo dolore è chiaro che vedere sulla scena apparire una persona sicuramente è un grosso conflitto e questo ci può stare però ecco puoi spostare l'asse cercando di in qualche misura non trovare qualcosa di collante qualcosa che unisca questi membri della famiglia che sono membri nuovi questa diciamo seconda madre come viene definita no? nel tempo si diceva matrigna oggi sono termini per fortuna perché matrigna sembrava un po' dispregiativo e non possiamo pensare sempre alla matrigna delle favole quindi per forza un personaggio cattivo per forza un'ombra sinistra io credo che ecco nei confronti dei membri di una famiglia allargata pur avendo sempre grande rispetto e soprattutto mantenendo sempre salve le posizioni nel senso storico della famiglia stessa l'amore le priorità i sentimenti io trovo che sia giusto essere inclusivi e non escludere i componenti a patto che ovviamente queste figure altrettanto siano al loro modo anche inclusivi quindi deve essere una cosa recitata anche dai genitori stessi come si comportano poi nei confronti dei figli e come impongono come dicevi anche te e poi la propria posizione no ci sono spesso situazioni che vivono i figli sicuramente per dei genitori che non sono probabilmente all'altezza di questa fase sentimentale o impongono un po' come un rullo compressore senza badare al fatto che è una fase anche molto delicata quindi veramente bisogna lavorarci bene avere grande cuore grande capacità di ascolto e quindi questa è la cosa fondamentale da parte di tutti da tutti tutti gli elementi con grande rispetto con grande con grande garbo purtroppo nel libro per ragioni sempre legate al mondo dei giornalisti io credo che ci siano alcune cose che secondo me non sono state chiarite e nel non essere state chiarite purtroppo come dite voi la campana che in questo caso ha suonato l'unica che è quella che sappiamo del principe Harry abbia rintoccato suoni che secondo me hanno bisogno forse di un contributo di chiarimento e questo è quello che prima ancora di questo libro io avrei cercato di sviscerare tutta una serie di cose invece qui si è voluto raccontare tutta una serie di difficoltà chiamiamole così dando già anche si può dire delle condanne tra virgolette oppure dando degli appellativi quindi è come se avessimo fatto un grande cluedo abbiamo creato in ognuno un ruolo è una posizione dipinta e quindi c'è chi ci crede perché ci sono molte persone che non hanno non capacità non vogliono perché magari hanno in grande simpatia il principe Harry e quindi giocano di tifoseria io valuterei questa cosa forse vedremo più avanti perché la verità poi si presenta qualcosa che ti ha colpito per il momento qualche frase in particolare qualche colpo di scena qualcosa che ti ha colpito di questo libro ma allora io direi che è tutto il libro di per sé che ha diversi aneddoti particolari sicuramente il racconto di quando loro lui bambino ecco ha questi questi particolari momenti in cui lui rammenta dei vissuti con il fratello questa camera da letto che lui parla di Balmoral in cui lui aveva una parte di questa camera che era come ti dice in due la sua parte più piccola aveva già come in mente che lui sarebbe stato in un ruolo diciamo secondo chiamiamolo così invece il fatto di questo termine la riserva lui ecco è molto forte quando esprime questo giudizio sulla riserva quasi come se fosse un organo di ricambio quasi come se fosse una persona pronta poi a subentrare casomai ci fosse stata una di partito del fratello maggiore secondo il punto di vista per come viene espresso sembrerebbe più raccontare quasi come fosse qualcosa di dispregiativo in questo fase questa cosa che lui è rimasta evidentemente queste frasi perché sembrerebbe che il principe Carlo allora abbia espresso quando la madre aveva appunto partorito a Harry c'era questa frase ecco finalmente abbiamo fatto la riserva e ora è il mio conto ma bisognerebbe contestualizzare questa battuta perché molto spesso anche un conto è scrivere una frase è un conto capire anche in che contesto è stata detta io a volte è capitato di sentire ecco finalmente mi hai dato l'erede piuttosto che ecco abbiamo una famiglia io penso che molte cose sono state anche un po' travisate poi alla lunga lui ha creato questa specie di perle che a un certo punto con un filo che lui ha tirato credendo di avere trovato in questo una specie di finale che è quello poi di andare via io ritengo che scappare tra virgolette non è mai una cosa non è mai una soluzione per la vita io trovo che bisogna combattere restando e anche noi siamo d'accordo con te ringraziamo Thomas Luigi Mastroiani esperto di Galateo e case reali alla prossima grazie io ringrazio voi scusate un'ultima cosa chiediamo che i cosiddetti haters e gli odiatori come è capitato a me sui social che hanno provato ad attaccarmi solo per una mia opinione espressa in modo verbata è veramente oggi difficile ho preferito ritirare i miei commenti e li invito anche in questo caso a non prendere sempre per forza le cose in estremo ci sono persone che veramente o per loro disagio o per loro difficoltà esprimono la loro odio ma bisogna rispettare sempre le opinioni altrui dietro a una tastiera dietro a un telefono è sempre più facile poi bisognerebbe vedere il confronto molto aggressivo eh lo so molto aggressivo tra l'altro comunque io vi ringrazio della vostra ospitalità vi volevo fare i complimenti sempre per la vostra eleganza grazie il vostro saper fare il vostro savoir fare grazie mille Thomas grazie alla prossima alla prossima a presto grazie incantato alla prossima grazie eccoci qua insomma una puntata dedicata ai Royals alla famiglia reale inglese una bellissima puntata ricca davvero di tantissime cose noi ci vediamo davvero molto presto con un'altra puntata sempre qui di bontontop sempre nel nostro salotto quando? tutti i sabbati alle 18.30 qui su 264 Cusano Italia TV alla prossima buon sabato ciao ciao